Abbiamo organizzato questa giornata di uscita fotografica con i ragazzi che hanno già preso parte all'iniziativa Farete Insieme e è una delle tante iniziative di questo progetto dove vogliamo portare i ragazzi a uscire un po' dalle mura domestiche a lasciare, abbandonare per qualche ora la tecnologia, internet, il telefonino e quant'altro per immergersi in quello che può essere la natura, in questo caso come abbiamo fatto oggi all'interno del nostro paese dove c'è un borgo molto bello e organizzato abbastanza bene, il borgo in fiore di Porelli e far scoprire che oltre la tecnologia c'è qualcos'altro qualcos'altro che è bello vedere, che è bello cogliere, che è bello raccontare quello che stiamo facendo è una raccolta fotografica di alcuni scorci del territorio per poi fare una collezione di fotografie che racconteranno sia le bellezze del nostro paese sia le emozioni che questi ragazzi stessi hanno provato con qualcosa che sicuramente la tecnologia oggi non riesce a dare la vedo sempre con qualcosa di freddo pur lavorando nel mondo della tecnologia mentre stare a contatto con la natura, a contatto con la fotografia, a contatto con le immagini con il bello si riesce a esprimere quello che abbiamo dentro speriamo che di queste iniziative ce ne siano altre che possano coinvolgere sempre più giovani e che sempre più giovani possono unirsi e fare squadra lo scopo alla fine è anche questo cioè quello di non rimanere isolati ma di fare rete insieme stare tutti insieme è molto più bello che starsene da soli a casa davanti al pc